Sai come sono diventato ecologista o come ho sviluppato la sensibilità ecologista? Oggi ti racconto quella che è un po' la mia storia, da dove sono venuto, perché ho sviluppato questa sensazione. È iniziato tutto tanti anni fa. Eravamo ragazzini, giravamo con i motorini in Garfagnana, nella zona delle Alpi Apuane, e andavamo l'estate sovente a fare dei campeggi in varie zone di montagna. Mi amavamo moltissimo, amavamo tuttora moltissimo la montagna, e andavamo a fare campeggio. Quell'anno avevamo il motorino, quindi decidemmo di andare in uno dei paesi abbastanza vicini, non troppo vicini per il viaggio in motorino, Vagli, famoso per avere questa diga che sotto c'è un paese sommerso, e ha anche questo paese moltissime cave. Allora piazzammo le tende, il giorno successivo, dopo aver dormito lì, aver fatto il classico, falò, insomma, la serata, davanti al fuoco, decidemmo di andare a fare un giro in motorino alle cave. A me il paesaggio delle cave colpì molto, colpì profondamente. Io amavo molto queste montagne, ci sono proprio cresciuto dentro, in mezzo, e vedere questa parte di montagna asportata mi ricordò un film che avevo visto un paio d'anni prima, un film famosissimo, La Storia Infinita, dove il nulla a un certo punto si mangia tutto l'esistente. Questa sensazione mi è rimasta dentro, mi ha colpito fortissimo negli anni, e è maturata dentro di me, portandomi poi successivamente a maturare una coscienza critica su quello che è la distruzione dell'ambiente, che poi sostanzialmente è anche la distruzione di noi stessi. Un'economia, quella delle cave, che chiaramente distrugge per creare, e non ha niente a che vedere con quello che oggi viene promossa come economia circolare, che prevede un'altra mentalità, no? Lì siamo proprio invece nell'estrattivismo puro. Insomma, io da lì ho poi successivamente, ogni volta che andavo in montagna, vedevo le cave, maturato, questa situazione, che mi ha portato a fondare un movimento, salviamo le apuane, appunto, le mie montagne, per la difesa del territorio, un movimento che ormai esiste da oltre 15 anni, sul quale lavoriamo per uno sviluppo alternativo della montagna, lavoriamo per la difesa del territorio, dell'ambiente, recentemente abbiamo spinto molto il parco affinché approvasse un nuovo piano integrato e praticamente portasse a chiusura alcune delle cave più impattanti, e questo sostanzialmente è stato il percorso che mi ha portato ad impegnarmi a livello ambientale ed ecologista. Quindi un'esperienza personale introiettata che ho maturato molto e che mi ha fatto comprendere che non siamo divisi dall'ambiente che viviamo. Noi siamo ambiente come l'ambiente è noi, non siamo scendibili e tutto quello che distruggiamo e facciamo all'ambiente ne ha ripercussioni su di noi. Ovviamente senza fanatismi o estremismi di sorta, però vi sono dei tipi di attività che veramente sono sostanzialmente insostenibili e ci porteranno alla distruzione. E quello che stiamo vivendo, la crisi climatica, la distruzione dell'ambiente, eccetera, eccetera, sono tutte legate ad una visione di un essere umano che non si ritiene parte dell'ambiente, ma che pensa di essere super partes, di esserne slegato e di poter buttare in ambiente tutto quello che crede e che ritiene opportuno. Pensate un po', fareste lo stesso con casa vostra, buttereste tutto alle spazzature, il gas di scarico, qualunque cosa dentro la vostra abitazione come non ci fosse un domani? Beh, questo è quello che stiamo facendo alla casa comune, il pianeta Terra, che in testa nostra è un pianeta infinito, in realtà è un pianeta molto fragile e delicato. Pensate un po', se noi riducessimo il raggio della Terra più o meno a due metri, l'atmosfera sarebbe a malapena due millimetri, quei due millimetri di atmosfera che ci consentono di sopravvivere su questo pianeta soli in viaggio nell'universo. se ci pensate bene è una situazione veramente spaziale, veramente complessa, cioè la meraviglia di tutto quello che ci circonda è così importante che non possiamo non lavorare e non lottare per salvaguardare la casa comune. Essere ecologisti, secondo me, è la base minima, ecologisti e non violenti, la base minima per l'essere umano del domani. Un saluto.